Amiche e amici, ben trovati a questo nuovo appuntamento con gli speciali di Medicina amica, siamo tornati nello studio del dottor Giuseppe Di Bella che ringrazio e oggi vogliamo parlare di una patologia che sta aumentando ed è in crescita, dopo il grande successo del libro che ha scritto La scelta antitumore edito da Macro Edizioni, siamo venuti al SANA ed è stato ospite da noi in studio, oggi vogliamo proprio affrontare in questo nuovo ciclo di puntate, vorremmo affrontare insieme a lei ogni singola patologia e oggi cominciamo con un tumore, uno fra i più aggressivi, quello cerebrale, quelli cerebrali perché ne esistono una vasta purtroppo gamma, stanno aumentando in maniera esponenziale dottore oppure c'è una selezione migliore quindi si capisce meglio di quale tumore si sta parlando? Sì, tumori cerebrali maligni ovviamente, parliamo di tumori maligni e stanno aumentando come gli altri tumori. Che sono gliomi? Ci sono alcune varietà dei tumori cerebrali, gliomi anaplastici, astrositomi, gli glioblastomi, gli astrositomi fanno un percorso, primo, secondo, terzo grado, quarto grado sono glioblastomi, oligodendrogliomi, anaplastisi, perciò parliamo qua di tumori cerebrali anaplastisi maligni, aggressivi. Quello che ha la fama peggiore meritata è il glioblastoma, il glioblastoma è l'evoluzione di vari tumori. Ed è il tumore in assoluto più aggressivo. Ora i tumori anaplastici del cervello, aggressivi, maligni, secondo una revisione della letteratura recente che abbiamo operato, hanno una sopravvivenza media, una mediana di circa 15 mesi. Ora questo risultato si può considerare non ottimale. Sì, poco più di un anno, quindi è pochissimo. Ma dottore, prima di affrontare un po' nel dettaglio come si può curare e guarire rispetto al tumore grazie al metodo di Bella e alla multiterapia, perché vengono questi tumori? Come fanno a crescere? Esiste una genesi lenta o proliferano in maniera velocissima? Per esempio un glioblastoma, ci si può ammalare subito di glioblastoma? Può avere due tipi diversi di evoluzione. Può rappresentare l'evoluzione graduale di un tumore meno aggressivo. Astrocitomi, primo, secondo o terzo grado, va il glioblastoma. O dei gliomi diventano gliomi anaplastici. Può invece partire già direttamente così, con queste caratteristiche. Per cui ci sono possibilità diverse che possono essere studiate e accertate con una diagnostica o molecolare o di radio, c'è una radiodianostica, radioimmunologia, con degli esami per esempio, che mettono in evidenza delle mutazioni. Per esempio, uno dei più studiati è una mutazione del gene Mgmt, cioè metilguanina, metilato e altri di H. Ecco, ora, queste ricerche hanno un valore prognostico, non hanno uno sviluppo immediato terapeutico. Perché quando io so che quella persona può avere qualche mese di più di sopravvivenza, perché un tumore cerebrale metilato ha una cellula tumorale che ripara con più difficoltà il danno che abbiamo procurato al suo DNA con radioterapia o chemioterapia. Questa sopravvivenza di 15 mesi si ottiene con intervento chirurgico, radioterapia e chemioterapia. Si usa generalmente un prodotto che attraversa bene la barriera ematoencefalica, temozolamide. Fanno dei cicli, medie di 5 giorni ad alte dosi, poi si fermano, qualche settimana e poi riprendono. Questo è un protocollo che viene definito STUP, il protocollo STUP, quindi è l'intervento, la radioterapia e la chemioterapia. Sì, è l'ideatore di questo protocollo che è accettato nelle linee guida internazionali per i tumori anaplastici del cervello. I risultati da 20 anni sono questi, e 20 anni che l'oncologia nei tumori cerebrali. incominciano a usare qualche anticorpo monoclonale del fattore vascolare o epidermico di Grecia, ma non si sposte più di tanto, sono lì. Poi alla fine la mediana è quella, ecco. C'è anche la medicina, diciamo, molecolare che aiuta, secondo lei, oppure no? Sì, gli studi più promettenti sono a livello di biologia molecolare che ci consentono di capire determinati meccanismi. Noi come Fondazione Di Bella collaboriamo con la Cattedra di Biologia Molecolare di Bologna che ci sta dando elementi importanti, tra cui l'effetto determinante dell'acido retinoico nei tumori cerebrali e nelle cellule staminali che rappresentano la quota di cellule più aggressive e più pericolose di tumori cerebrali. Il grioblastoma è così difficile da curare anche perché ha una composizione molto varia da un punto di vista istologico e istochimico, non è un'unica cellula, sono tanti tipi diversi di cellule, ma più progredisce, più questa percentuale si sposta sulle staminali, che sono le cellule tumorali di più alta aggressività e resistenza. Perché resistenza? Resistenza perché sono capaci in tempi minimi di riparare il danno che noi procuriamo al suo DNA, di mutare, per mutazione, selezionare, trattenere la resistenza a quello che facciamo noi. Perché in realtà il compito delle cellule staminali che sono disseminate lungo tutto il nostro corpo, qual è dottore? Noi abbiamo riserve di cellule staminali in gran parte sconosciute in tutto l'organismo. risentono di segnali, inviati da altre cellule, segnali di difficoltà. un tessuto necrodizzato, cellule distrutte, cellule napoptosi. Inviano dei segnali. Le cellule staminali recepisce vengono liberate da zone, da depositi che ancora non sono pienamente studiate. Si sa qualche cosa, si pensa che siano basi con un lume virtuale che si apre e da una chemiotassi, cioè queste cellule staminali vengono richiamate sul luogo della lesione. E' molto probabile che senza questi meccanismi la nostra vita efficiente sarebbe enormemente più breve. Il nostro organismo si ha una riparazione continua da parte di cellule staminali. Ci sono riserve cerebrali importanti di cellule staminali. C'è una visione che è suggestiva, è una intuizione. Come tale ve la racconto. Non è una certezza scientifica, è un'ipotesi, però mi sembra un'ipotesi segnale. Allora, la cellula staminale è richiamata da un danno, una cellula sofferente invia un segnale. E' probabile, secondo questa visione, che la cellula cerebrale colpita da temozolamide, da radiazioni e così, mandi dei segnali di necrosi, di sofferenza. Alle cellule staminali che si attivano. Non la distingue dal cellulo normale e parte per ripararla. Se parte per ripararla sono guai, perché oltre che rifare continuamente sostituisse il tessuto necrosi, si sostituisse lei alle cellule tumorali e assume tutte le caratteristiche del cellulo tumorale, però moltiplicate, potenziate, come intensità e come tempi di replicazione cellulare. In queste condizioni io devo fare una terapia che sia la più efficace e la più specifica sul tipo di cellule che stanno regolando la proliferazione. Però questo è molto probabile che accada tutte le volte quando c'è una progressione del tumore. Perciò all'inizio il tumore riporta effetti positivi da chemio radio. tanti tumori hanno una riduzione anche imponente. Per esempio, tumori del polmone, micrositomi. Dopo chemio e radio terapia hanno delle riduzioni macroscopiche. Si riduce tantissimo. Improvisamente poi riprende. Con la stessa velocità riprende. Si riduce e riparte. Per quale motivo? Non sono più le cellule di prima. Non risentono più del trattamento precedente. Sono staminali tumorali. Allora, le armi di ultima generazione, le più potenti che possiamo usare, sono quelle dirette sulle staminali. Un'altra efficacia documentata, per questo è stata preziosa la collaborazione della Fondazione di Bella con la Biologia Molecolare di Bologna, che è diretta dal professor Ventura, che è uno dei ricercatori italiani più accreditati all'estero, Baltimora, Harvard, lo conoscono e lui fa parte anche di circoli di questi ricercatori che stabiliscono nuove linee di guida di ricerca. Ci hanno anche molto a che fare con il suono, la preghiera, i mantra, l'arte, insomma, come visione olistica e globale dell'essere umano, non solo un fattore puramente scientifico, ma una visione è molto più sistemica. Ci sono tanti tipi di energia e possono cambiare l'una nell'altra. Ogni energia ha un'intensità, ha una frequenza, ha una lunghezza d'onda. Tra gli studi che ha fatto il professor Ventura, che abbiamo seguito noi sulle staminali tumorali e sull'acido retinoico, che in assoluto è uno dei più potenti contro le staminali, uno dei più potenti farmaci, lì si sta vedendo che con attrezzature importanti che hanno questa università e quando l'acido retinoico è a contatto con il DNA, con i filamenti, con i cromatidi, con le sequenze dei geni, addirittura cambia la disposizione spaziale del DNA e assume la forma di un omega. I punti più vicino entrano in risonanza e mettono delle vibrazioni elettroacustiche che il professor Ventura ha derivato. Questo, queste vibrazioni elettroacustiche sono un segnale fisico che trasferite in un altro punto del DNA ha lo stesso effetto della molecola di assido retinoico. Questo vuol dire che in tempi virtuali, molto vicini allo zero, noi possiamo dare un segnale a un punto del DNA, possiamo ottenere un effetto terapeutico con un segnale non di tipo chimico la reazione, ma con un segnale di tipo fisico che ha un effetto istantaneo, quello chimico necessita di tutta una serie di reazioni. Tornando all'asido retinoico, è potente contro le staminali ed è potente perché differenzia la cellula. La cellula che sta prendendo un decorso, capacità di moltiplicazione, si distanzia sempre di più della cellula normale, viene riportata a questi parametri fisiologici, non solo, termine tecnico si chiama differenziante, è portata a riassumere le sue caratteristiche basilari, fisiologiche, biologiche. La cellula retinoiva ha questo tipo di azione, però... Abbinato alla melatonina, poi a... Insieme con la melatonina è potenziato dalla melatonina, c'è un sinergismo perfetto e anche con la vitamina D3. Se un punto del DNA riceve questo segnale differenziante, questo segnale vuol dire tu in questo momento devi stabilizzarti in questa posizione, però questo in tempo reale fa il percorso di tutto il DNA, viene recepito da tutto il DNA e coincide con un blocco della proliferazione, G0, cioè non prolifera, perciò ha l'effetto doppio, è differenziante, cioè riporta le caratteristiche iniziali, ma è citostatico, blocca il ciclo cellulare, lo mantiene in G0. Secondo questo concetto, nel tumore cerebrale ho una percentuale crescente di staminali, sono le più difficili da curare, che cosa devo usare? I prodotti che hanno maggiore affinità in primis al suo retinoico, che nella terapia di Bella stiamo gradualmente potenziando in percentuale rispetto agli altri componenti della soluzione vitaminica, per cui stiamo arrivando a 0,5 oppure 1 grammo di acido retinoico su 500 ml, creando tutte le condizioni per cui venga assimilato perfettamente, attivando l'effetto colaretico, colagogo, funzionalità epatica e dà dei segnali positivi, dà dei riscontri positivi. Questo insieme con la vitamina D3, con gli altri retinoidi, per esempio lo schema che stiamo usando, tutti e tre retinoidi insieme al mattino, acido retinoico, exerotolo, beta carotene. Mezzogiorno e sera solo acido retinoico in vitamina E, ma per quale motivo? L'acido retinoico come tutti i retinoidi ha una grande labilità come molecola ed è ossidabilissimo. Se io lo schermo con altissime percentuali, addirittura un rapporto di 1 a 1000 con vitamina E, perché se io do 0,5 grammi di acido retinoico in 500 di vitamina E, riporto una 1000. Allora lì quello mi dura teoricamente tempi enormi, non è ossidato e la molecola è protetta, per cui mi esercita per tempi lunghissimi un'attività terapeutica potenziata dalla E che ha delle sue peculiari e documentate azioni antitumorali, anche nel cervello. Dottore, ma questi aspetti vengono tenuti in considerazione dalla medicina ufficiale? La crescita del meccanismo di crescita, il meccanismo di mutazione di un tumore, soprattutto in questo caso, stiamo parlando di tumore cerebrale, vengono tenuti in considerazione? No, assolutamente. Qualche cosa stanno facendo in alcune leucemie, soprattutto mieloidi, gridano al miracolo perché usano l'asio retinoico che mio padre usava più di 40 anni fa, se ne stanno accorgendo adesso. Con qualche sale, con qualche derivato di assenico, sono grandi articoli miracolistici, in un caso di mieloidi acuti in un bambino piccolo usato, curato con l'asio retinoico e questi derivati della sena. Ci sono nel libro che ho scritto nel 2004, il metodo di Bello 2004 porta già anche questo impiego. Ma non solo, poi sul publimed.gov si trovano tutte le le? Ora, sull'asio retinoico, se si fa una ricerca sulla massima banca da più consultata, non è l'unica. PubMed e se voi desitate l'asio retinoico, oppure retinoidi in cancer, sono 19.000 pubblicazioni. Se fate la stessa cosa sulla vitamina D, mettete esempio in cancer, oppure in cancer therapy sulla vitamina E, sono decine di migliaia di pubblicazioni. ma non vengono usati. Questo vuol dire che si è creata una frattura grave tra le evidenze scientifiche e la pratica clinica. Questa è la responsabilità di chi organizza, di chi stabilisce i protocolli e le linee guida. Non è del singolo oncologo il quale è obbligato seguire le linee guida che gli danno le istituzioni. Ecco, di fronte a una malattia così, che è una sentenza, chiaramente è una sentenza di morte, di 15 mesi. Sopravvivenza a 15 mesi. Poi bisogna vedere come si vive, perché in realtà un tumore cerebrale implica anche cambiamenti di umore, depressione, possibile paresi. Ci sono tante, tante controindicazioni, chiamiamole così, per essere leggeri. C'è una qualità di vita molte volte tragica. Esatto. Quindi, di fronte a una sentenza di questo tipo, come si fa a scegliere una via differente? Informandosi. La gente, io lo ripeto spesso quando posso, dovrebbe informarsi alle fonti primarie della ricerca e della medicina. sono le banche dati medico-scientifiche. Sono validate, sono esaminate da commissioni scientifiche, per cui non è che uno si alza la mattina pubblica sulle banche dati. Allora, facendo riferimento a quelle, la gente può incominciare a rendersi conto della distanza crescente che si è creata tra evidenze scientifiche. L'evidenza scientifica, nell'accezione comune del termine, definisse un dato scientifico definitivamente acquisito, non più oggetto di discussione, definitivamente documentata e dimostrata. Queste evidenze scientifiche, come l'effetto antitumorale dei retinoidi solubilizzati in vitamine, che è pubblicato sulle banche dati, della melotinina idrosolubile, degli inibitori della crescita tumorale, come somatostatine, inibitori prolatinici, sono evidenze scientifiche con migliaia o meglio decine di migliaia di pubblicazioni che non sono trasferite nella pratica clinica. Queste sono ancora protocollo di stupo. Per questo 15 mesi di sopravvivenza, con qualche eccezione, le eccezioni loro le chiamano, oltre i 15 mesi le chiamano lunga sopravvivenza. Ma lunga sopravvivenza, se parliamo di più di 5 anni, abbiamo uno 0, la statistica 0, eccetera, eccetera. Che è un'inizia rispetto alla realtà. Il dato più sconcertante oggi, su cui bisogna ricamare molto l'attenzione della gente, non bisogna stancarsi di ricamare l'attenzione della gente, sulla distanza crescente tra le evidenze scientifiche e la pratica, tra quello che la ricerca mi dà, è quello che oggi l'oncologia internazionale fa, perché i protocolli sono protocolli internazionali. Certo, quindi invitiamo i nostri telespettatori a seguire ovviamente le nostre trasmissioni, ma andare sulle banche dati internazionali dove si possono trovare... A pubmed.gov, c'è anche in base, ci sono Google Scholar, Resergate, sono banche dati mondiali. Più facile, più consultata, pubmed.gov. Lì trovano una serie di dati che sono dati verificati, sono dati credibili. Ora, nel campo dei tumori cerebrali, se 20 anni che sono fermi al protocollo di stupo che comprende intervento, chirurgia del cervello, radioterapia, chemio, contemozionamide. Io uso questi da 20 anni e da 20 anni ho una sopravvivenza media, mediana di sopravvivenza. Ma allora, se questo viene ritenuto un risultato ottimale, se sono contenti, se sono soddisfatti, possono continuare così. Se qualcuno ha qualcosa da obiettare, quando parlano di terapie di provata efficace, è quello che dice il Ministero, ha detto l'Istituto Superiore di Sanità ai Tempi, noi abbiamo cura di provata efficace. Se la provata efficace sono 15 mesi di sopravvivenza, benissimo e ci mettiamo da parte. Se però succede, come possiamo documentare in una prossima pubblicazione, che in alcuni casi ne abbiamo 9 in cura, 3 di questi, astrositomi anaplastici di terzo grado e glioblastomi, stanno superando tranquillamente i 7 anni e ne altri li abbiamo, sì, sopravvivenza, fra 4 e 5 anni. C'è in particolare un caso di un ricercatore americano che ha sollevato grande interesse e che lei ha studiato, è il caso del dottor Ben Williams. Ben Williams, sì, è un ricercatore statunitense che è entrato esattamente nella logica di mio padre 30 anni dopo. Lui non conosceva il mio padre, però c'è arrivato dopo 30 anni. È arrivato al concetto di multiterapia. Ora, la biologia neoplastica è estremamente complessa, è molto più perfetta, molto più efficiente della biologia fisiologica normale. Allora, lui ha avuto, Ben Williams è un ricercatore di un'università americana, ha avuto un glioblastoma. Ricordiamolo, uno dei tumori più aggressivi che danno. Sì, e ha seguito la via tradizionale, ha fatto un intervento al cervello, ha fatto radioterapia, chemioterapia con temozolamide. Finita l'era, dopo un po' di tempo ha avuto una progressione. Ha parlato con i colleghi oncologi, diceva, ma com'è? Con tutti questi progressi che fate, ci ha raccontato che ormai ogni giorno è un progresso e mi date 15 mesi di sopravvivenza. Se gli ha detto chiaramente, guarda, se va bene i capi 15 mesi. Bene, non gli andava bene. Ha incominciato una revisione della letteratura, ha scoperto che l'acido retinoide è potente, i retinoidi sono potenti, la melatonina è potente, tutte le serie di altri prodotti ancora non valorizzati, come l'acido valproico, per esempio, che noi usiamo regolarmente in tumori cerebrali. Ha un suo criterio, una sua indicazione, una sua logica, la melatonina, la vitamina D3. Lui ha preso tutto. Lui per ogni pasto si mangia una manata di pillole. Questo campo, sono passati vent'anni. Allora, ha creato una scuola di pensiero, cui si sono associati una quantità di ricercatori, sia statunitensi che da altre parti. Hanno fatto un film molto interessante, che abbiamo messo nel sito, adesso lo ripropongo, lo metto in prima pagina, nel nostro sito, Metodo Di Bello. Ora, qual è il concetto? Il concetto del professor Di Bello. Ci sono arrivati anche loro dopo 30 anni. Ora, la patologia neoplastica, la biologia neoplastica è potentissima. Si sa difendere perfettamente. Attiva in tempi estremamente rapidi le contromisure a tutto quello che noi facciamo. Secondo questo concetto, se avessero un minimo di riflessione critica su 20 anni di fallimento, continuato, anche oggi, se c'è un fallimento così, c'è una ragione. Ogni evento ha una causa. Ma se il risultato è questo, perché noi cominciamo a individuare le cause di questo fallimento, che loro continuano a definire cura di provata efficace, e che impongono con i protocolli. Quali sono le cause? È il mancato impiego di evidenze scientifiche, il mancato impiego della logica terapeutica. Io devo applicare la logica come medico, devo applicare il buon senso, devo applicare una logica, diciamo, matematica e geometrica, devo risalire alle fonti della proliferazione tumorale. Le fonti della proliferazione tumorale sono le spinte proliferative più potenti che sono date dall'ormone della crescita prolatina. Ma c'è una pubblicazione, c'è una letteratura immensa. Ora, alla base di qualsiasi crescita, c'è la coppia e il sinergismo tra il GH, growth hormone, ormone della crescita e prolatina. Sono prodotti nell'ipofisi anteriore. Sono prodotti quasi nello stesso punto, hanno una struttura quasi identica. Uno è 192, l'altro è 198, la crescita non esiste senza questi due. La crescita è sintesi di proteine, la proteidosintesi è GH e prolatina dipendenti. Ma c'è un'altra cosa più importante. L'ormone della crescita è la prolatina. Quando i meccanismi di controllo della crescita, fisiologici, di modulazione della crescita, vengono meno nella patologia neoplastica, attivano la crescita tumorale non solo con la loro azione diretta sulla cellula, sui recettori, che peraltro hanno in comune, perché i ormone della crescita e prolatina sono coespressi come recettori sulle membrane cellulari e attivano delle vie di segnalazione potentissime perché dimerizzano, cioè vuol dire moltiplicano l'effetto. Allora, come agiscono? In presa diretta sulla cellula tumorale spingono la moltiplicazione, il ciclo cellulare, ma attivano tutta una cascata, un domino di fenomeni proliferativi. Bloccano la senescenza della cellula. Il blocco della senescenza è l'avvio del tumore. La cellula tumorale non è vie che non muore. Cosa fanno? E modulano l'espressione dei geni, hanno effetto epigenetico. Cosa vuol dire? Vuol dire che mi fanno esprimere, mi attivano i geni proliferativi, i geni oncogeni e mi bloccano i geni oncosuppressori. Per cui c'è una regolazione differenziale positiva dei geni oncogeni, negativa degli oncosuppressori. Oltre questo, l'ormone della crescita è il cavostipite e all'inizio è strettamente collegato con i più potenti fattori di crescita tumorale. Non sono ormoni, l'ormone della crescita. Lo stiamo dicendo che è un ormone, ma il fattore di crescita prodotto dal fegato, simbile insulinico, l'IGF1, è strettamente GH dipendente, growth ormone dipendente, è strettamente collegato. Cosa vuol dire? E' noto, ammesso, è indiscutibile che l'IGF1 non ha potentissima spinta alla crescita tumorale. Si sa che è strettamente collegato e dipendente con l'ormone della crescita. Ma io so in maniera matematica che se do la somatostatina io faccio precipitare e abbatto la concentrazione nel sangue dell'ormone della crescita. Vuol dire che di conseguenza abbatto anche quella del più potente fattore di crescita tumorale. Ma l'ormone della crescita d'oltre l'IGF1 è strettamente collegato e dipendente con l'IGF col fattore di crescita epidermico che è un'altra spinta potente. Con quello vascolare per cui la cellula tumorale si fa una rete di vasi con cui moltiplica la crescita. V-IGF vascolo endoteliale growth factor col fattore fibroblastico. Questi sono tutti GH correlati questi sono correlati con l'ormone della crescita. io blocco l'ormone della crescita o un blocco riflesso della principale spinta di fattore di crescita tumorale. Allora perché non li devo usare? Per quale motivo un paziente se li deve comprare a lui e lo Stato non glieli passa quando campano 15 mesi e vivono male quei 15 mesi? ma quale motivo esiste una spiegazione etica? Esiste una spiegazione morale? Esiste una spiegazione clinica scientifica di questo? No. Per non usarli hanno falsificato grossolanamente la sperimentazione del 98 della cura di Bell in cui uno degli elementi di base della somatostatina vi ho detto che era inutile oggi andate su pubmed.gov digitate somatostatine o l'analogo octerotide sempre somatostatine in cancer therapy più chiaro di così? Vedete se funziona è la terapia del cancro certo avete 33.000 pubblicazioni tra cui pubblicazioni dei premi Nobel ma è mai possibile che il paziente se lo andava a comprare diventa matto per comprarselo all'estero dove costa un quarto di quello che costa in Italia e perché in Italia costa quattro volte di più? Cioè queste sono delle situazioni di un'enorme gravità alla base hanno il mancato recepimento il mancato uso di evidenze che cambiano la vita questo è il motivo per cui abbiamo gli dice ho tre che stanno superando il settimano ma questi tre lavorano e fanno lavori pesanti uno lavora in pasticceria e si alza le cinque di notte ma questi qua facendo gli esami mettono in crisi i radiologi hanno paura a scrivere che sono guariti di glioblastoma si girano attorno con un sacco di frasi poi alla fine i pazienti scusa se mai perché non me lo scrivi che non vedi più niente gli facciamo fare anche la pet va bene con la metionina pet è negativa non cat per cui questi tre casi sono eclatanti dottore adesso qualche istante di pubblicità ma torniamo subito dopo non mancate dottore quanto è difficile costruire una multiterapia di questo tipo e portarla avanti per tanti anni perché si parla di 7 portare avanti è in base a livello etico e a livello morale delle classi dirigenti della nazione il problema del cancro come vi sto dimostrando non è scientifico è politico il blocco è politico e l'imposizione di terapie che sono superate è inefficiente a meno che non si consideri efficienti 15 mesi di supervivenza non parlo più se ci vanno bene 15 mesi siamo a posto 15 mesi e la qualità di vita aggiungere se ci vanno bene 15 mesi devono incominciare a usare quello che è logico quello che è matematico quello che è scientifico e che è documentato e che non usano ma di che è la responsabilità chi è che formula i protocolli chi è che fa le linee guida cioè la gente deve prendere atto che deve incominciare a prendere in mano la propria vita e la propria salute non deve essere remissiva non deve farsi portare il macello con un branco di pecoroni il momento è grave perché questi se no continuano questi siamo solo all'inizio andiamo verso una terapia coercitiva verso una dittatura terapeuta e la gente sarà obbligata a fare le scelte che dicono loro come dicono loro e quando dicono loro non solo ma siamo arrivati al punto che il medico non può neanche parlare non può esprimere un parere diverso perché se no può essere eliminato dall'ordine dei medici se dissente da determinate scelte come è scritto e è successo per i vaccini se esprimono parere diverse sono allontanati dall'ordine ma allora a che cosa serve la ricerca scientifica se un risultato documentato io non lo posso trasferire nella clinica il concetto di multiterapia che si sta affermato in pieno in che cosa consiste? non solo in Italia diciamo in tutto il mondo è affermato Ben Williams che ha creato questa scuola di pensiero e che è guarito da un glioblastoma è logico io ho la cellula tumorale la posso dominare la posso bloccare almeno in certi casi in cui loro non riescono come se io facessi un accerchiamento vado a interferire su tutte le sue reazioni vitali ma incomincio a bloccare i suoi punti gridici l'obiettivo più importante qual è? eliminare la sua capacità di assumere energia che assume sotto forma di ormoni fattori di crescita per cui devo abbattere la concentrazione ematica nel siero di ormone della crescita prolattina e fattori di crescita prolattino dipendenti ma devo anche ribaltare tutta quella cascata di effetti neoplastici che ha la copiata fattori di crescita prolattina e oncogene quindi qual è la ricetta diciamo somatostadina e il suo analogo octerotide l'analogo della somatostadina 8 amminoassi la somatostadina 4 14 se io li uso tutti e due insieme contemporaneamente una tutte le sere con un temporizzatore l'altra intramuscolo lento rilasso io ho una saturazione recettoriale agisco su tutti i recettori oltre che sull'ormone della crescita direttamente sulla cellula e sui vasi sanguigni e peritumorali che contengono sempre recettori per la somatostadina e vado a chiudere l'angiogenesi allora poi anche oltre a questo qua questo agisce sulla proliferazione poi abbiamo l'acido retinoico l'acido retinoico i retinoidi soluzioni retinoide in vitamina E insieme e in sinergismo con la vitamina D3 con la melatonina agiscono sulle membrane nucleari hanno recettori coespressi sulle membrane nucleari suo padre peraltro sui recettori nucleari aveva scoperto una serie di cose aveva intuiti disegni prima che fossero individuati dalle tecniche disponibili oggi hanno confermato quello che lui aveva intuito c'è la presenza di recettori nucleari della melatonina retinoide e vitamina D3 aveva intuito il loro sinergismo fattoriale cosa vuol dire fra di loro non hanno un effetto uno più hanno un effetto uno per il fatto che abbiano recettori sulla membrana nucleare cosa vuol dire che accedono in presa diretta alle sequenze del DNA possono modulare i codici della vita tramite dei fattori di trascrizione su il ponte tra la membrana nucleare e il DNA ce l'hanno in comune questi fattori di trascrizione essendo insieme fra di loro hanno reazioni chimiche di fosforilazione dimerilza e mandano degli impulsi molto più potenti moltiplicano gli impulsi cosa fanno questi impulsi mi frenano la mutazione che è l'aspetto più misideale della cellula tumorale che è esaltato in quelle staminali per questo l'asore di noi con la sua particolare peculiarità di effetto nelle staminali su che cosa agisce sulla capacità della cellula tumorale di rendersi resistenza di selezionare la resistenza a tutti gli eventi avesi che possiamo creare noi se io vado a stabilizzare le vado in pratica a togliere o a bloccare o a rallentare il meccanismo di difesa più potente della cellula tumorale però contemporaneamente i retinoidi si chiamano in farmacologia vitamine antinfettive mi potenzia l'immunità antitumorale insieme con la melatonina che attiva l'interleugina 2 che è altro elemento poi diceva la vitamina E pura perché? vitamina E pura ha molteplici documentati effetti antitumorali perché scherma i retinoidi dall'ossidazione ne prolunga enormemente le mie vita sono molecole labili ma la vitamina E ha una quantità di effetti antitumorali uno dei tanti effetti non conosciuti non conosciuti documentato attiva sulla superficie della membrana cellulare del citosolo lo fisso delle molecole di fosfodidilcolina queste qua fanno praticamente attivano la chemiotassi dei macrofagi danno un segnale al sistema immunitario segnalano quella cellula come tumorale per cui richiama il sistema immunitario oltre a questo attiva delle caspasi caspasi sono degli enzimi proteolidisi che portano alla fine della proliferazione cellulare cioè la vitamina E oltre che essere un elemento importante della catena respiratoria insieme con la C è il più potente antitussidante insieme con la C e melatonina oltre a questo qua ha delle sue peculiari particolari azioni documentate antitumorali potenti se io li uso insieme un po' per volta vado a contestare l'enorme potenzialità proliferativa e di resistenza della cellula tumorale ma ho bisogno contro un nemico formidabile di sparare delle armi formidabili ma tanti insieme io devo fare la massima concentrazione di fuoco sul punto ma questa è una strategia è una strategia militare i primi che hanno messo in atto questa strategia la prima Alessandro Magno lo conoscono tutti perché Alessandro Magno ha costruito un impero la strategia è questa lui ha ereditato la strategia del padre il padre aveva organizzato l'esercito macedone copiando la falange tebbana la falange erano dei fanti che avevano delle lance lunghissime ed erano fra di loro strettamente collegati con gli scudi sovrapposti facevano un blocco unico questo blocco unico di lance e di scudi camminava insieme erano addestrati e marciati insieme avevano una massa d'urto enorme massima concentrazione di potenza su un punto sfasciavano tutto quindi è lo stesso principio ma è questo è lo stesso principio di Federico il Grande Fridik del Grosso dei tedeschi le vittorie di quello che ha creato l'impero tedesco Federico il Grande Federico II è la stessa tattica di Napoleone è la massima concentrazione di forze su un punto su un punto spacco questo deve riunire le forze ecco nel riunire le forze il metodo di Bella nei confronti dei tumori cerebrali oltre ai retinoidi la melatonina gli epatoprotettori perché ricordiamo anche la funzione degli epatoprotettori quanto sono importanti quindi devo sparare addosso tutto quello che posso oltre a questo ci sono anche degli altri elementi nuovi che non abbiamo ancora affrontato ma che stiamo usando correntemente con degli ottimi risultati in quei casi che verifero questi nuovi casi che noi pubblicheremo in particolare l'acetazolamide che cos'è? acetazolamide e stiamo usando acetazolamide acido valproico e tranil e cipronina e dunque noi dobbiamo accedere ai codici della vita la cura deve andare lì cioè la cura è efficace se raggiunge l'obiettivo l'obiettivo è il DNA per agire sul DNA io ho bisogno di un DNA decompattato perché il DNA è come un filamento super compattato super avvolto più è stretto meno io riesco a penetrare io ho bisogno di penetrare per penetrare io ho bisogno di potenziare un enzima che si chiama acetilase perché questo funzioni devo eliminare quello che blocca le acetilase cioè devo bloccare un enzima che si chiama deacetilase l'acido valproico in commercio dei pachin che si usa da decenni come antiepilettico ha quest'ottima azione se io lo do insieme alla cura e nei tumori cerebrali un anticonvulsivante è sempre indicato lo do insieme noi lo conosciamo perfettamente se poi in prodotto emano escevo una scarsa tossicità bene cosa ottengo da una parte proteggo il paziente da eventuali possibili crisi epilettiche dall'altra parte attivo le acetilase mi creo la strada però oltre questo ci sono esastuti in atto sui tumori cerebrali per cui l'acido valproico ha un effetto antiproliferativo cioè se la tumorale si riproduce in maniera più rallentata per l'effetto dell'acido valproico non è tossico per quale motivo non lo deve usare perché non lo inseriscono nei protocolli altro particolare con l'aumento del tumore in tutti i tumori praticamente se non proprio in tutti hanno visto nei tumori che hanno studiato c'è sempre un incremento proporzionale alla progressione di carboanidrasi e un enzima la carboanidrasi è presente anche nei tumori cerebrali cosa implica? significa che questo qua coincide spesso con una progressione con l'edema cerebrale se io do un antidoto del carboanidrasi che è la cetazolamide che è un certo effetto diuretico anche e che non è tossico esatto a frenare uno degli elementi che intervengono nella progressione del tumore per cui agisco anche a quel livello però quello mi consente anche di diminuire almeno parzialmente la quantità di cortisonici che mi servono per contenere l'edema cerebrale nei periodi di riecutizzazione perché il cortisone invece ha un effetto collaterale pesantissimo sulla glicemia che è uno dei fattori davvero deleteri per la proliferazione il cortisone ha un effetto vitale un effetto fondamentale tanti tumori cerebrali nell'edema cerebrale io ho bisogno di usarlo però se ne posso usare un po' di meno io diminuisco l'effetto glicemico perché gli zuccheri sono così importanti? perché il cello tumorale utilizza gli zuccheri e perché il fattore di crescita tumorale simile a insulinico l'IGF1 proprio simile a insulinico in questi casi molte volte c'è anche l'insulina per cui oltre che l'azione diretta di mettere a disposizione della cellula tumorale un carburante diretto io attivo anche un fattore di crescita tumorale questi diabete sono fortemente più predisposti per il tumore se io do un prodotto che mi aumenta questo problema ovviamente meno ne do è meglio allora la cetazolamide che cosa mi consente? diminuisco stando molto attenti a monitorare i pazienti a dare quello che ci serve per controllare un'edema cerebrale però posso dare meno cortisone e in più ottengo un effetto antitumorale questo è potenziato se uso asio vaproico la cetazolamide è potenziato dalla tranille cipronina che non è in commercio in Italia era in commercio nel contesto di un antidepressivo che non è più reperibile attiva le vie e perché è importante? è importante perché gli studi pubblicati sulle banche dati mondiali ufficiali mi dicono che se io uso oltre alla terapia standard anche questo prodotto insieme con l'acido vaproico eventualmente con la cetazolamide aumento l'effetto di blocco proliferativo della cellula tumorale gli do una frenata alla proliferazione e in più il paziente è pure più allegro perché il paziente con tumore cerebrale non ha molte ragioni di allegri già in mente sono depressi perciò mi migliora anche il tono dell'umore mi migliora anche l'aspetto cognitivo perché mi agisce sulle vie topominergiche l'ultimo prodotto che si può usare ovviamente controllando i pazienti con molta prudenza facendo un monitoraggio frequente degli esami è quello che si usa per curare forme artritiche artrosiche degenerative e anche come antimalarico è la clorochina ecco perché il commercio si chiama plaquenile clorochina agisce su un aspetto importante della biologia tumorale sull'autofagia cioè praticamente la cellula tumorale ha tanti meccanismi che le consentono di avere quella spettacolare vitalità che ha perché in casi particolari produce energia brusando dal suo patrimonio il materiale che ha quello che le serve anche pezzi importanti dal suo patrimonio però in condizione di crisi se ha bisogno di energia li recupera da questo patrimonio che ha contemporaneamente li usa come discarica come brusatore cioè quello che le dà fastidio le scoriche le bruse praticamente allora l'effetto della clorochina è di interferire su meccanismo di autofagia della cellula tumorale allora se io metto tutto insieme ho una mole importante di farmaci da somministrare ce n'è anche un altro dottore che non si penserebbe mai possa essere assunto in questo particolare caso stiamo parlando dei tumori cerebrali qual è? il viagra? quello lo lasciamo per ultimo questo noi li mandiamo fuori testa allora va bene vi spiego il viagra viene usato per motivi sessuali per migliorare il rapporto soprattutto in certe condizioni di crisi è noto per questo però perché funziona il viagra? perché di là di vasi sanguigni per cui crea una situazione che facilita dei rapporti ma nello stesso momento in cui mi apre tutta una rete vascolare intanto il cuore migliora perché la vascolarizzazione cardiaca migliora a livello coronarico migliore ma d'altra parte migliora molto la permeabilità della barriera ematoencefalica io ho bisogno di mandare dei prodotti nel cervello se me ne arriva uno di più l'effetto è maggiore uno dei limiti della terapia di tumori cerebrali è proprio questa barriera ematoencefalica fatta delle meningi per cui mi arriva solo una quota di quello che io do se io do questo Viagra stando molto attenti a spiegare bene al paziente che non pensa che il medico è andato fuori di testa e gli prescrive un prodotto per altre indicazioni però spiegandogli la ragione di questa somministrazione spiegandogli di tenere strettamente monitorata la pressione gli esami del sangue vanno controllati molto spesso anche perché uno degli elementi fondamentali per cui si può ottenere qualche cosa di più attenzione perdiamo anche noi con la terapia di Bella tanti tumori cerebrali non riusciamo a guirirli tutti una certa quota non riusciamo a prolungare l'esistenza perciò voglio mettere in evidenza che questa terapia non è un miracolo però un progresso perché almeno una percentuale di veste riusciamo a tirarli fuori tutti no però un certo numero sì che diversamente non avrebbero questa possibilità perché la mediana di supervivenza è quella allora ricordiamolo 15 mesi poco più di un anno ma molti dei pazienti che noi curiamo hanno risultati parziali perché devono pagarsi tutto a un certo punto non ce la fanno perché hanno contrasti dappertutto ogni elemento ogni diagnosi si devono fare una risonanza gli fanno terrorismo li spaventano li demoralizzano per cui noi usiamo e operiamo in un contesto esattamente difficile se sanno e fanno la via di bella questi qua hanno mille contrasti oltre all'onero economico di pagarsi la cura ora al di fuori di questo i risultati che potremmo avere sarebbero enormemente migliori perché da esami che stiamo facendo le persone che fanno la terapia tutte con regolarità sono una minoranza una minoranza è molto probabile che in condizioni diverse economiche organizzative e di collaborazione oncologica i risultati sarebbero moltiplicati ma già attualmente con tutti questi limiti qualche progresso rispetto a quello che tengono loro documentato appena possibile pubblichiamo questi casi documentati si possono ottenere mettendo insieme un elemento fondamentale è quello di un impiego completamente diverso di quello che usano loro come temozolamide loro danno 5 giorni altre dosi poi si fermano perché si fermano? per evitare la tossicità mitolare perché calano le piestrine i globuli rossi i globuli bianchi si devono fermare il professor Di Bella invece aveva inventato quello che oggi viene chiamato protocollo circadiano in realtà e aveva dato un altro nome la terapia che loro chiamano metronomica circa di tutti i giorni terapia metronomica cosa vuol dire? invece di usare 5 giorni di temozolamide e 3-4 settimane di intervallo piccole dosi però tutti i giorni paziente oncologico il contorno del cerebrale li sopporta loro non glielo possono dare perché? perché non hanno preso atto che in letteratura ci sono studi di cui il professor Di Bella è stato pioniere e che sono particolarmente diffusi sono migliaia di pubblicazioni soluzione di retinoidi con vitamina E alte dosi di folina vitamina C folina e la B9 usiamo la parte attiva il calcio levofolinato e altre altissime dosi di melatonina che ha un'attività precisa mieloprotettiva su un midollo mi consentono di evitare tossicità midollari comunque di contenerla e mi consentono di usare con una posologia metronomica piccole dosi di temozolamide giornaliera senza interrompere mai allora cosa succede? se io metto in crisi la cellula tumorale le creo dei problemi togliendo l'energia sotto forma di ormone di fattore di crescita li vado a bloccare con inibitore dell'ormone della crescita prolattina continuamente le creo difficoltà ad attuare il suo meccanismo di difesa più potente che la mutazione con cui seleziona dei vantaggi cioè i prodotti che agiscono sul DNA e agiscono su quelle sequenze dei geni che mi danno alla mutazione e mi fanno esprimere dei geni oncogeni allora che cosa gli do? retinoidi tre retinoidi vitamina E vitamina D3 melatonina in altissime dosi in questi casi superare i 100 mg di melatonina al giorno questo mi consente di proteggere il midollo per cui quelle piccole dosi giornaliere che hanno un effetto ancora più potente se gliene do ancora meno però aggiungo un altro chemioterapico in minime dosi piccolissime gli do due diverse due diverse hanno tutte e due hanno un effetto alchilante tossico sulle cellule tumorali meccanismo di alchilazione allora gli do questo qua gli do idrossiurea insieme temozolamide piccole dosi una capsula di idrossi gli posso dare un po' di temozolamide però facendogli fare delle capsule da 20 mg ora se ne do due la cellula tumorale fa più fatica a fare due mutazioni perché deve diventare recente a tutte e due questi due prodotti hanno una buona capacità di superare la barriera emotoencefalica per questo gli diamo questi qua ma se io gli do altri prodotti come i Viagra la permeabilità della barriera emotoencefalica aumenta quindi l'idea di base è quella di multiterapia di fortificare il sistema e mettere in difficoltà le cellule tumorali in modo tale che vadano in apoptosi e rendere il bersaglio accessibile quindi compatti uniti con l'esercito di Alessandro Romano devo circondare la cellula tumorale di una multiterapia perciò di sostanze non tossiche che agiscono contemporaneamente centripetamente sulla cellula tumorale andando di volta in volta a condizionare inceppare o bloccare tutte le reazioni vitali della cellula tumorale il maggior numero possibile il maggior numero non una non una monoterapia non solo temodal bloccare contemporaneamente il maggior numero possibile di reazione con un'azione centripeta contemporanea e sinergica per questi prodotti fra di loro hanno un effetto sinergico fattoriale ha un effetto moltiplicato quindi uno per e non uno più allora se ci fosse la possibilità di una struttura protetta cui il paziente può essere sottoposto a questi trattamenti aumentando notevolmente la melatonina avremmo bisogno per avere un effetto molto più potente di aumentare abbiamo avuto qualche caso qui abbiamo somministrato mille milligrammi di melatonina liofilizzata con adenosine in vena direttamente con effetti sorprendenti si può fare in un ambiente protetto se potessimo in questa maniera agire non solo ma come stiamo facendo adesso con la somatostatina avere delle micro emulsioni perciò praticamente delle confezioni liposomiali come le abbiamo di vitamina C che stiamo moltiplicando come dosi di retinoidi i prodotti che usiamo il più potente l'asio retinoico queste confezioni liposomiali sono molecole attive a volte di fosfolipidi cosa vuol dire? che risentono molto meno dell'idrolisi degli enzimi del sangue e mi agiscono direttamente a livello del citosoldo della cellula tumorale ma vanno dentro la cellula una preparazione di questo genere è più potente allora questo è il prossimo traguardo della nostra fondazione ci stiamo commissionando come progetti di studio accenti specializzati in maniera ad avere maggior numero possibile di confezioni liposomiali che mi moltiplicano l'effetto antitumorale di prodotti di cui oggi noi conosciamo già con certezza la tollerabilità e l'effetto antitumorale però l'effetto lo moltiplichiamo in questo tipo di confezione una domanda fra tutte perché nascono questi tumori cerebrali si è parlato tanto di inquinamento di elettrosmog di campi elettromagnetici telefonini alimentazione ma sono tutta una serie di cause insieme o c'è anche dell'altro dunque è un concorso di cause concorso di cause psicofisiche concorso di cause comportamentali un ruolo fondamentale ce l'hanno le cause fisiche per cui radiazioni campi elettromagnetici hanno un ruolo molto importante quindi attenzione soprattutto ai più piccoli perché i tumori cerebrali stanno colpendo la popolazione più fragile più debole sono frequentissime nei bambini quindi attenzione quando date loro i tablet i telefonini sappiate che state mettendo a rischio la salute dei vostri figli alte frequenze di emissione elettromagnetici sono pericose però qualche cosa intendiamoci non i miracoli però qualche cosa si può fare per diminuire la tossicità e la pericolosità dei campi elettromagnetici perché realizzano il loro danno abbassando la melatonina nel sangue la melatonina è il presidio antitumorale naturale imbecchiando c'è più pericolo di tumore perché imbecchiando diminuisce la melatonina la melatonina segue una parabola incomincia a scendere dopo i 40 anni per cui più si procede con l'età più aumenta il rischio di tumore perché decade tra le altre cose attenzione perché ci sono tanti altri sistemi di controllo della proliferazione dei sistemi immunitari ma un ruolo importante è la melatonina allora danno da campo elettromagnetico il primo rimedio è la melatonina incrementa la melatonina oltre a soluzione retinoide di tumore però è fondamentale la melatonina ecco per quanto riguarda i tumori cerebrali invece anche i forti stress possono causare possono scatenare insieme agli altri fattori ovviamente come in tutti i tumori lo stress profondo intimamente vissuto cronico le depressioni importanti possono coincidere con uno stato di animi porta a rifiuto della vita all'isolamento a quelle che sono le manifestazioni più gravi di uno stress cronico cronico e potente in queste condizioni si attivano tutta quante una serie di vie di segnali che possono uno dei segnali per esempio si è visto da studi relativamente recenti che una zona cognitiva del cervello la corteccia cerebrale produce una sostanza che blocca la proliferazione dei tumori è la cortitropina la cortitropina e la cortistatina scusi mi sono sbagliato è la cortistatina la cortistatina è un tipo di somatostatina prodotta dalla corteccia cerebrale diminuisce con lo stress c'è un ormone tipico dello stress la prolattina il picco di prolattina è cancerogeno perché perché inibisce la produzione dei più potenti oncosoppressori cioè inibisce la produzione delle sostanze che ci proteggono dal tumore soprattutto c'è un gene oncosoppressivo si chiama KISS che a fine funziona insieme col P53 lo chiamano il guardiano del genoma tra i due più potenti oncosoppressori vengono meno quando c'è il picco della prolattina dello stress contemporaneamente a livello dell'ipotalamo aumenta il precursore della CTH dell'adreno cortico troppo ormone che è prodotto dall'ipofisi anteriore per cui c'è la CTH release in ormone cosa succede mi aumenta il cortisolo il cortisolo mi attiva un circolo chiuso con lo stress contemporaneamente c'è il blocco della fertilità gli ormoni sessuali hanno un effetto potente antidepressivo se voi volete curare una depressione importante se gli date il testosterone c'è un effetto quasi immediato positivo positivo ora cosa vengono meno le gonadotropine perché la prolatina a livello ipotelamico diminuisce il release infector delle gonadotropine prodotte dall'ipofisi perciò questo release infector o RH release in ormone GN gonadotropine a livello ipofisario LH ed FSH questo funzionò nell'uomo e nella donna nella donna cosa mi danno la sterilità dal stress che è sempre più diffusa e ricorrono sempre di più a quelle forzature ormonali che sono pericolose perché sono da stress nell'uomo si abbassa il testosterone l'abbassamento mi complica mi attiva un circolo chiuso di depressione contemporaneamente vengono espressi dei geni oncogeni e la cortesia cerebrale mi produce meno corti somma d'ostatina siamo una macchina meravigliosa basterebbe essere in grado di farla funzionare al meglio esatto e cambiano i potenziali di membrana e cellulare dottor Di Bella grazie per questa questa puntata noi ci rivediamo prossimo mese per parlare ancora di tumori per parlare soprattutto anche della scelta antitumore che è il suo ultimo libro edito da macroedizioni in coedizione se volete conoscere al meglio come funziona il metodo Di Bella potete acquistare il libro la scelta antitumore scritto dal dottor Giuseppe Di Bella io la ringrazio le do appuntamento alla prossima puntata e a voi che ci seguite buona salute